A te Dio Padre e potente, e un'unità di un futuro santo, oltre un'ora e gloria di tutti i seti, di seti, amici. La Messa è il presente a Dio che ci ha salvato e del servizio. Siamo un piano che vi presenta una vocazione per la vita di Soprano e di un'esonore. Siamo un piano che vi presenta una vocazione per la vita di Soprano e di un'esonore di Soprano e di un'esonore di Soprano e di un'esonore di Soprano e di un'esonore.